Il nucleo di polizia economico-finanziare di Napoli, nell'ambito di un'attività d'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del capologo parte europeo, ha denunciato un gruppo criminale costituito da nove soggetti, tutti giovanissimi, che avrebbero organizzato un commercio di hashish e marijuana tramite internet e in criptovaluta. Sono stati gli specialisti della sezione antidroga del gruppo Investigazione Criminalità Organizzata che tramite l'analisi del contenuto delle conversazioni trovate sullo smartphone di uno di essi hanno ricostruito 10 episodi di acquisto di stupefacente tra giugno 2016 e giugno 2017. In particolare gli indagati all'epoca minorenni si sarebbero avvarsi del dark web per acquistare la droga usando criptovalute, bitcoin, per dissimilare la tracciabilità dei pagamenti. Il narcotico giungeva poi a destinazione tramite una società di spedizione, del tutto estraneo all'illecito traffico, che consegnava le confezioni presso appositi hub all'interno di esercizi commerciali abilitati al ritiro della merce. Il dark web, il lato scuro della rete, fortemente sviluppatosi con la pandemia, rende la connessione anonima ed intracciabile grazie all'utilizzo di sofisticati sistemi, tra i quali il più diffuso, come nel caso di specie, è denominato TOR. All'interno del dark web è possibile introdursi nei dark market per scambiare qualsiasi tipo di merce illegale, droga, armi, farmaci, passaporti e documenti falsi, pornografia e i dati vengono criptati in modo tale da rendere impossibile l'identificazione sia dell'acquirente che del venditore. Inoltre l'anonimato è garantito dalle forme di pagamento virtuali, rigorosamente in bitcoin, che vengono perfezionate solo al momento della ricezione del prodotto. Le valute virtuali, utilizzando generalmente reti decentralizzate, non sono moneta elettronica e non sono sottoposte ai controlli di banche centrali o da autorità pubbliche, permettendo la realizzazione di transazioni non controllate. Grazie. Grazie.